Modalità di immatricolazione Le procedure di immatricolazione sono indicate nei bandi di ammissione ai corsi di studio. Nella domanda di ammissione è necessario compilare i campi relativi al tipo e alla percentuale di disabilità. Coloro che si trovano in situazione di disabilità, ai sensi della legge 104 del 92 e successive modificazioni e integrazioni, o con disturbo specifico dell'apprendimento di S.A. ai sensi della legge 170 del 2010 e relative linee guida, devono fare esplicita richiesta degli ausili, strumenti compensativi e misure dispensative necessari per sostenere la prova. La richiesta va effettuata online, contestualmente all'iscrizione alla prova. È necessario compilare la sezione Richiesta di ausilio e allegare la certificazione relativa al proprio stato di invalidità o handicap rilasciata dal competente ente pubblico. I candidati e le candidate con disabilità residenti in paesi esteri devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità rilasciata nel paese di residenza accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese.